Questo è il nostro slideshow. Questo è quando io ero arrivato a Roma, qui con Gianni, la prima volta con Gianni, e molti giornalisti all'aeroporto. E' una grande confusione, ma io so che qui in Roma tutti sono molto appassionati per la Roma e mi aspettavo una situazione come questa. Ma devo dire che è stata una grande confusione. Il mio primo momento è in Trigoria, il mio primo giorno qui. Per me, in questo momento, io solo pensavo di arrivare a Roma e iniziare il lavoro con i giocatori. e in questo momento devo dire che la mia ambizione di venire a Roma era molto grande, come è adesso. ma è stato un giorno molto, molto importante per me. Questa è la prima partita difficile. è una partita che per me in questo momento dobbiamo vincere, perché per me abbiamo meritato. Ma è sempre la prima partita, è sempre difficile. Io non penso molto allo passato. Abbiamo cambiato molte cose qui, abbiamo cambiato molti giocatori. è stata la prima volta che abbiamo giocato con i nostri tifosi. ma devo dire che io non penso molto allo passato. Dopo questa partita, io ho pensato che dobbiamo lavorare molto per migliorare la squadra. e penso che abbiamo fatto. Questa è stata una partita molto difficile. Abbiamo affrontato una squadra molto, molto forte. Era il mio primo derby. È stata una partita difficile. del primo momento della stagione della stagione. È un derby. È un derby della città. Io capisco che c'è una grande rivalità. ma per me che mi ricordo di questa partita è che non mi è piaciuto come abbiamo giocato. Ma penso che dopo è stata una partita importante perché dopo abbiamo cambiato molte cose che è stata importante per noi in quanto squadra. Qui il calcio è diverso. Devo dire che è difficile vincere qui una partita. e io, come tutti gli allenatori, dobbiamo capire che abbiamo qui un calcio diverso e che questa adattazione è molto importante. È molto importante capire come le altre squadre giocano. È importante capire come le altre squadre pensano ogni partita. Sì, è vero, non c'è nessun problema in dire che è stato importante questo momento per la mia adattazione. Questa è una partita che mi aspettavo molto difficile, come tutti, ma mi piace questa squadra di Sassuolo. Ma abbiamo giocato molto bene, abbiamo fatto una buona partita. Abbiamo iniziato a vincere con fiducia, con coraggio. Qui non abbiamo molto tempo per sfruttare la vittoria, ma la prima vittoria è sempre molto importante. Penso che dopo questa partita la squadra ha vinto con fiducia, ha lavorato con più fiducia. Per me la prima vittoria è sempre importante. È il primo gioco della UEFA. Abbiamo vinto una squadra che è una squadra forte e abbiamo fatto una bella partita. una partita con un buon momento di calcio. Mi è piaciuta la forma come abbiamo vinto Balseric City. Giustin ha imparato molto. Devo dire che l'inizio è stato molto complicato per me vedere come giustin giocava. Giocava. Giocava una partita molto individuale, sempre con poca disponibilità per la fase difensiva. Ma penso che Justin ha imparato, ha migliorato moltissimo. Oggi è un giocatore di squadra che mi piace molto questo atteggiamento di Justin. Questa è una vittoria che per me ha un significato molto molto speciale. La squadra ha vinto con meno di un giocatore. Una partita molto difficile. Abbiamo vinto nell'ultimo minuto. qui la squadra ha dimostrato un grande spirito di squadra e penso che abbiamo meritato questo momento di festa fino alla partita. Devo dire che dopo la partita ho parlato con il mio assistente e ho detto che è questo spirito di squadra che dobbiamo giocare sempre. Io penso che i giocatori hanno capito che solo con questo spirito di squadra possiamo vincere, possiamo essere sempre una squadra con ambizione, possiamo essere sempre una squadra con coraggio. Per me questo spirito di squadra è quello che fa la squadra più forte in tutto il momento. Kolarov ha un carattere fortissimo. è uno dei giocatori più forti nell'ospolatorio. Per me è un grande professionista, un grande uomo, con una grande mentalità che parla sempre con il più giovane. per me è un giocatore importantissimo nell'ospolatorio. Questo è un momento difficile, la prima sconfitta a casa, la prima sconfitta nel campionato, contro una squadra che è molto difficile di affrontare. Atalanta è una squadra fortissima. Non è che abbiamo fatto un gioco in cui abbiamo meritato perdere. Ma è stata una partita difficile contro una squadra, contro la quale è difficile giocare con caratteristiche molto proprie. È un momento che non mi piace ricordare perché è la prima sconfitta. Questa è la partita con Cagliari. Per me abbiamo fatto una bellissima partita. Abbiamo fatto un gol, è vero, ma penso che abbiamo meritato di vincere questa partita. è stata una partita in cui attacchiamo di più, attacchiamo molto. Abbiamo creato molte occasioni per vincere questa partita. Dobbiamo in questa partita vincere e avere più di due punti in questo momento. È stato un momento difficile per me. Devo dire che non mi è piaciuta la forma come l'arbitro ha dirigito la partita. non perché abbiamo avuto questo momento nella finale, ma in tutte le partite. E io ho perso un po' il controllo, l'equilibrio, ma può succedere. Penso che è un momento importante per me perché devo capire che devo sempre mantenere l'equilibrio che non ha mantenuto qui in questo momento. Questo è un momento difficile quando Diawara è stato infortunato in questa partita. Più un momento di infortunio della nostra squadra. Abbiamo molto. Dopo è stato un momento difficile perché non abbiamo molto giocatore per questa posizione. Questo è un problema che possiamo vedere in tutte le squadre che giocano tanti giochi. La verità è che non abbiamo avuto molto infortunio muscolare, molto infortunio di trauma. Ma penso che sia un problema di tutte le squadre. Grande squadre che giocano tante partite in questo momento. Ma penso che in questo momento la squadra, i giocatori hanno capito che in questo momento difficile abbiamo bisogno di essere più insieme, luttare e correre più, perché è stato un momento difficile perché non abbiamo molti giocatori in questo momento. più una situazione che abbiamo una situazione traumatica con Dzeko, ma devo dire che Dzeko è un gran professionista, sempre lavorando sempre lavorando molto per la squadra. Non era nella migliore condizione, ma ha giocato, ha marcato, ha lavorato molto, ha corrito molto sempre per la squadra. è un giocatore con un carattere molto forte, come Kolarov, è un giocatore importante in lo spogliatore. Io ho parlato molto all'inizio con Dzeko. E' stato molto importante che Dzeko sia rimasto qui in Roma. In questo momento mi ricordo che non abbiamo un centrocampista. Io ho pensato a Mancini perché Mancini ha qualità tecnica. E penso che la squadra sia adattata molto bene in questo momento. Mancini si è adattato molto bene alla posizione del centrocampista. In questo momento difficile la squadra ha sempre dimostrato un grande spirito della squadra. Abbiamo vinto in questo momento una partita molto, molto importante contro una squadra molto, molto forte. E penso che soprattutto perché la squadra è stata con un grande, grande atteggiamento, con un grande spirito della squadra. Mancini è un giovane che mi ha sorpreso per il suo carattere molto, molto forte. L'atteggiamento di Mancini è un giovane ma per me è un, in questo momento, il leader della spolatoglia, è un leader nel campo. È un giovane che può essere per me un miglior difensore centrale d'Europa, d'Italia. È un momento che per me è stato molto importante vincere questa partita. Io ho parlato per il giocatore che se vogliamo andare in posizioni che sono top nella classifica, dobbiamo vincere non una partita ma due, tre, quattro partite. Io conosco bene Chris Smalling, è un grande difensore. Ma devo dire che si è adattato più veloce di quello che ho pensato. Tutti i giocatori credono molto in Smalling, io credo molto in Smalling. Penso che il due, Mancini e Smalling, sono molto importanti per la stabilità della squadra difensivamente. È stata una partita difficile contro una bellissima squadra, una squadra molto forte, che abbiamo vinto penso che molto bene. Zagnolo sta migliorando. Devo dire che Zagnolo, non lo so come dire, ma era un giocatore selvaggio. Penso che adesso sta capendo lo spazio, il tempo giusto. Tatticamente sta imparando, ma è un giocatore di grande talento. La seconda sconfitta in Parma. Parma è una squadra forte, fisicamente forte, che gioca bene. Mi piace il modo come l'allenatore organizza la squadra. Ma penso che è un gioco in cui abbiamo stato molto stanco. Dopo la partita nella UEFA, sempre giocando con gli stessi giocatori, penso che in questo momento abbiamo sentito che la squadra non ha avuto reazione, non ha avuto velocità. Penso che in questo gioco per me è molto chiaro che la squadra è stata stanca. qui penso che abbiamo fatto la migliore partita di questa stagione, anche in questo momento. Abbiamo capito che è stato un momento importante. Dobbiamo vincere qui in Istanbul contro una squadra difficile, ma è stato un momento in cui tutti abbiamo capito che era importante vincere. Abbiamo vinto con una buona partita. Abbiamo molti momenti di buon calcio, di grande controllo sull'adversario. È stata una partita che mi è piaciuta molto. Dopo la partita io ho stato soddisfatto con la squadra. Devo dire che non abbiamo giocato con Dzeko, non abbiamo giocato con Lopez. Antonio ha fatto una grandissima partita. Penso che noi abbiamo sempre controllato molto bene la partita. È vero che negli ultimi metri non abbiamo fatto la decisione corretta per fare gol, ma penso che abbiamo controllato, abbiamo dominato un'adversario che per me è molto forte. per me è più forte del nostro campionato. Onestamente Inter e Juve sono i più forti in questo momento. e penso che uno di questa squadra può essere il campione. qui è un momento che mi ricorda questo problema del razzismo. Io sono totalmente contro il razzismo. e penso che prima della partita abbiamo visto parole infelici che per me non devono esistire. ma penso che questa è una grande dimostrazione che il razzismo non entra in campo. e questa immagine è un grande momento per me. È un momento felice per me. Io sono stato un bambino Gesù con questo momento difficile per il bambino. La Roma è un grande esempio di quello che possiamo fare per la società per questo tipo di problema. Noi abbiamo molte iniziative. Penso che è veramente positivo questo tipo di iniziative. Difficile, difficile giocare contro Fiorentina. Non possiamo dimenticare che Fiorentina ha fatto buoni risultati con le grandi squadre a casa. E penso che abbiamo fatto una grandissima partita. Era importante vincere prima di questo momento di Natale. La squadra ha giocato sempre con grande coraggio, con grande ambizione. Devo dire che Lorenzo è un bravo ragazzo. È un giocatore molto, molto intelligente. È un giocatore con un forte carattere. Pellegrini per me è il miglior giocatore italiano in questo momento. Per Trachi. Prima devo dire che mi piace molto il capello. Io ho usato questo capello contro la Fiorentina, ma devo dire che la mia ispirazione è in Gianluca, non in Peaky Blinders. Devo dire che questo uomo è un grande uomo. Io ho una grande fiducia in Gianluca. È un grande direttore, un grande leader. sta sempre con la squadra, sempre con me. Mi piace molto parlare con Gianluca. È una persona con grande ambizione. Penso che questo è molto importante in questo momento in Roma. Penso che il mio obiettivo e l'obiettivo di Gianluca è uguale. Noi parliamo molto di come dobbiamo imparare a migliorare la squadra. Penso che siamo sempre d'accordo. Devo dire che i nostri tifosi sono una delle cose che mi piacciono più in Roma. Sono sempre con la squadra, sono sempre molto appassionato. Questo amore che loro hanno per la Roma, per me è fantastico. Devo dire che se loro sono appassionati per la Roma, io sono appassionato per il nostro tifosi. È fantastico. È difficile per me dire in parole che io sento per il nostro tifosi. Mi aspetto che dobbiamo continuare tutti insieme. La squadra, con i tifosi, con la società. Solo insieme possiamo vincere. Ma devo dire che abbiamo molto per lavorare. Abbiamo molto per migliorare. Penso che siamo nella strada giusta. E penso che tutti insieme possiamo sognare. A presto. 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 A presto.